È una pubblicazione molto importante perché ha coinvolto 71 Camere di Commercio in tutti i continenti, abbiamo analizzato quali sono le realtà in questi paesi e soprattutto sono uno strumento per i nostri imprenditori che intendono investire in quei paesi e capire come è l'evoluzione nel digitale, nell'innovazione, nell'economia circolare. Qui si dimostra ancora una volta la valenza del sistema camerale italiano all'estero, molto importante, è riconosciuto direi il lavoro che è stato fatto perché sono i nostri imprenditori che operano in quei paesi che quindi sono una testimonianza riva e questo per un paese come l'Italia che esporta molto, 600 miliardi, una cifra importantissima, può ancora di più dare un supporto a quali indirizzi prendere e soprattutto sviluppare ancora di più nelle aree quali possono essere i mercati nuovi.